La Commissione Onomastica del Comune dice no all'installazione di una targa commemorativa per Sergio Ramelli, studente milanese di 19 anni del fronte della gioventù, ucciso nel 1975 da una cellula terroristica legata ad avanguardia operaia. Sul tema sono intervenute le opposizioni, un parerre non favorevole perché per la Commissione non sostistono i requisiti. E l'opposizione plaude perché evidentemente, dicono oggi, avevano ragione loro. L'indicazione sarebbe invece quella di intitolare uno spazio pubblico per tutte le vittime del terrorismo. I consiglieri hanno ricostruito la vicenda, prendendosela con il sindaco Biondi e con il consigliere Claudia Pagliariccio. La targa Ramelli fu approvata nella seduta del 12 giugno del Consiglio Comunale, con un ordine del giorno del consigliere Pagliariccio, che decise, dicono le opposizioni, di bocciare il loro ordine del giorno, che chiedeva invece al sindaco di promuovere nelle scuole iniziative per parlare ai ragazzi degli anni di piombo, con una targa dedicata a tutte le vittime, non a una sola. I consiglieri hanno ricordato che il sindaco si scagliò contro questa proposta, facendogli pensare che la targa Ramelli fosse solo una questione ideologica, sostengono. L'ordine del giorno che è stato discusso il 12 giugno in Consiglio Comunale, presentato appunto dalla consigliera Pagliariccio, era evidentemente un ordine del giorno di chiara natura ideologica. Ramelli voleva essere portato in questa città, la commissione onomastica ha bocciato questa proposta dichiarandola irricevibile, evidentemente tornando anche alla vocazione profondamente antifascista della nostra carta costituzionale. Ed è per noi, come forze di opposizione in comune, motivo di grande soddisfazione, perché noi avevamo provato ad emendare l'ordine del giorno in un'ottica di sforzo collettivo, chiedendo di istituire uno spazio pubblico, una targa alla memoria di tutte le persone che in quegli anni hanno perso la vita, perché quelli sono stati anni importanti e significativi, gravi, non ancora indagati. Se si vuole fare memoria, se si vuole andare nelle scuole, se si vuole raccontare la storia di quegli anni, non si può che farlo senza ideologismi. E questa destra, il governo della città, è stata bocciata, bocciata proprio nel suo tentativo di continuare a fare una propaganda dentro una visione ideologica di egemonia culturale che sta caratterizzando un po' tutto il paese. Quindi noi siamo profondamente soddisfatti di questo risultato, perché è stato anche grazie al nostro contributo che se ne parla e che abbiamo scongiurato questa ipotesi su Ramelli.